Quali sono le novità di questa diciassettesima edizione? Anche quest'anno c'è la realizzazione di due nuovi murales, ci sono gli artisti Franco Mora e Salvo Caramagno e in più abbiamo iniziato una collaborazione, perché crediamo nella collaborazione fra associazioni, abbiamo iniziato una collaborazione con l'associazione Trucioli in Arte di Torricella che realizzerà un'infiorata ad Azzinano con un tema dei giochi di una volta. In più quest'anno intendiamo promuovere in maniera più consistente quello che stiamo facendo già da anni, cioè quindi la raccolta dei fiori di lavanda, facciamo dei sacchettini che sono stati lavorati, cuciti e ricamati a mano dalle signore del paese durante l'inverno e ovviamente le venderemo per autofinanziamento, per finanziare le nostre attività. Malgrado appunto l'andamento di un'annata molto particolare, non è mancata la forza da parte degli abitanti di Azzinano con il supporto dell'amministrazione comunale del BIM di appunto realizzare anche quest'anno due murales. Molte sono le iniziative che la Proloco porta avanti anche durante l'anno. Negli ultimi periodi c'è stata la collaborazione con il MIBACT, una manifestazione a Roma che ha coinvolto i borghi autentici d'Italia e a breve ci sarà una convenzione tra il MIUR, la Regione Abruzzo, la Proloco di Azzinano e il Comune di Tossicia affinché questo borgo sia sempre più visitato dalle scolaresche che inseriranno nei propri programmi didattici proprio una visita a questo borgo dipinto.